E rieccoci su una delle tante strade calabresi, stiamo andando ad Acqua Formosa con tele radio cinchiale stereo network, la regia è sempre affegata al Salvatore Pesalino, la voce narrante è quella di Roberto De Francesco. Acqua Formosa è uno dei paesi più belli d'Italia secondo me, un paese di origine albanese, bellissimo, questa è la strada che va praticamente ad Acqua Formosa, è abbastanza messa male, lo potete notare dagli avvalamenti e tutto il resto, l'Acqua Formosa sicuramente è uno dei panorami più belli d'Italia, sicuramente, questa è la strada statale che ci porta lì, qui finisce il comune di Lungro, e dovrebbe iniziare il comune di Acqua Formosa. Ha notato la strada in che condizioni versa, ha notato anche lo splendido panorama che si gode in mezzo a queste montagne. Abbiamo detto già precedentemente che Firmo, Lungro e Acqua Formosa hanno già un progetto di raccolta differenziata per i rifiuti e quindi ci risulteranno come dei comuni virtuali. Siamo nel Parco Nazionale del Pollino, all'altezza di Acqua Formosa. Siamo nel Parco Nazionale del Pollino, all'altezza di Acqua Formosa. Guardate che natura che c'è qui. All'altezza di Acqua Formosa. Eccoci arrivati nel comune di Acqua Formosa. All'altezza di Acqua Formosa. Siamo arrivati ad Acqua Formosa. Facciamo una piccola panoramica del paese ed arriveremo dove c'è la famosa chiesa ortodossa di Acqua Formosa che è veramente stupenda. All'altezza di Acqua Formosa. All'altezza di Acqua Formosa. All'altezza di Acqua Formosa. All'altezza di Acqua Formosa. All'altezza di Acqua Formosa.